Prestazioni chirurgiche di alta qualità come l'impianto di retina artificiale per il nuovo reparto di oculistica al CTO di Careggi. Parte la rivoluzione della riorganizzazione del reparto di oculistica con una rivoluzione legata non solo alle nuove tecnologie acquisite con un investimento di 3 milioni di euro, ma anche ai nuovi 19 ambulatori con percorsi assistenziali diversificati. Un altro tassello importante del rinnovamento sia dell'azienda di Careggi ma più in generale della nostra sanità. Abbiamo iniziato un percorso di riorganizzazione dei processi che sta dando i suoi frutti, che ci sta portando comunque a grossi risultati sugli esiti ospedalieri e quindi questo è un tassello importante di una strategia più ampia. La struttura, diretta da Gianni Vigili, responsabile del Dipartimento Ottica Fisiopatologica e dal dottor Stanislao Rizzo, responsabile del Dipartimento di Oculistica, entro breve sarà in grado di eseguire oltre 100 interventi alla settimana e dentro il 2015 i ricoveri saranno triplicati, passando dagli attuali 1.500 ad oltre 4.000 all'anno. Una offerta amplificata su tutti i fronti per quanto riguarda questo settore, ambulatoriale, internistico e chirurgico, con prestazioni sia di secondo livello ma soprattutto è importante il terzo livello. Per quanto riguarda l'attività ambulatoriale si stima un incremento dell'offerta del 32% passando dalle attuali 46.900 prestazioni ad oltre 60.000 all'anno. Per la chirurgia ambulatoriale, per esempio, un'operazione alla cataratta si passerà da circa 3.600 a 5.000 interventi annui.